Iniziamo, con foto e articoli, la ricostruzione storica di alcune partite europee del Napoli di cui, ad oggi, ancora non abbiamo filmati. Grazie alle foto dell'archivio personale di Davide Morgera, che, ovviamente, ringraziamo, cercheremo di ricostruire le vicende di alcune di quelle partite. Partiamo con la Coppa delle Fiere, antesignana della Coppa UEFA, nella quale il Napoli giocò 20 partite, tra il 1966 e il 1970. Erano gli anni del grande Napoli di Roberto Fiore e poi di un giovane Corrado Ferlaino, gli anni di Sivori e Altaffini ma anche di Bandoni, Panzanato, Ottavio Bianchi, Iuliano, Montefusco e Canè, con Pesaola allenatore. Un Napoli competitivo che, tornato dalla Serie B, inizierà un lungo ciclo nella Serie Maggiore, dove resterà per 33 anni, fino alla retrocessione del 1998.